Le piccole e medie industrie fanno il punto della situazione e tracciano il percorso da seguire per risalire da una crisi che pare non voler finire. Le previsioni non sono così tanto simpatiche. Da parte nostra ci impegniamo a dare a tutta l'assistenza possibile il mantenimento delle aziende e quindi il relativo mantenimento dei posti di lavoro che sono fondamentali per far girare l'economia. Al proposito torna sotto i riflettori la questione della letale lentezza della giustizia dopo la soppressione del Tribunale di Bassano. Un tribunale lo ricordiamo tra i più efficienti del Veneto accorpato a quello di Vicenza con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Avere un presidio di giustizia veloce e rapido in territorio vuol dire avere imprese che vengono, che arrivano, investono e anche non solo per le imprese ma per i cittadini stessi. In attesa della costituzione del nuovo Tribunale della Pedemontana per cui si sta battendo anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, il presidente di App Industria del mandamento bassanese ha lanciato un invito a tutti i 400 soci. Abbiamo segnalato a tutte le nostre aziende associate al comparto di provincia di Vicenza di rivolgersi al Tribunale di Trento. Proprio il presidente Zaia è stato ospite anche all'inaugurazione della nuova sede di App Industria con Fimi Bassano al pieno terra del Palazzo delle Professioni di Viale Asiago. Abbiamo rinnovato la sede, la sede nuova, una casa per gli imprenditori non solo più grande, più comoda per assistere le aziende del territorio. Cosa si potrà trovare qui? Qua noi avremo dei funzionari fissi dall'ufficio fiscale, sindacale, assistenza per sinistri, quindi calamità naturali e non calamità naturali, sinistri anche di infortuni alle aziende. Quindi c'è tutto il personale specializzato che può dare a 360 gradi l'assistenza alle nostre aziende. Grazie a tutti.